Ciao a tutti, siamo nuovamente insieme per proseguire la nostra avventura di Metal Gear e credo che qua faremo un incontro abbastanza importante con un car armato, visto anche le tracce e qui dovrebbero esserci, credo, delle miene che vanno disinnescate e noi con quell'attrezzo che siamo andati a prendere nel Glamour praticamente, che non si vedono, miene, se no esploderemo ovviamente qui facciamo un incontro probabilmente con il secondo, diciamo, boss, ecco, del gioco, chiamiamolo così vediamo chi è che... eh, Claymore, non mi sono accorto con la profonda, allora ecco, un tuo ammiratore, ma... bene, bene stavo cercando se c'era qualcosa di interessante perché non ho più energia ecco andiamo a disattivare questa presumo che il car armato sia qua davanti perché è quello che era sparito nel presidente capitolo, diciamo bene questo è il territorio di Raven per me i serpenti non vivono in Alaska non ti lascerò passare comitato di accoglienza perfetto la terra è il tuo posto devi strisciare come il serpente che sei avanti, combatti non è allora, andiamo a vedere se posso frutturbarvi un po' il trono buonanotte ci sarà qua da penare e anche tanto ah, ci sono finito sotto bellissimo ok, ora andiamo con le nostre granate perché non abbiamo fatto ancora un gran cavolo di niente è 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 che era ancora il tipo sopra per un altro almeno il cararmato è andato distrutto te l'avevo detto ma io l'ucciderò allora generale Ivan ho sentito che si è preso la tua mano insieme al tuo onore gliela freddo la lingua sciamano nel linguaggio dei Siu Siu significa serpente, un animale da temere ora Snake è mio quando lo incontrerò di nuovo gli riserverò un trattamento speciale non ancora aspetta di ucciderlo io e lui ci ritroveremo in battaglia le tue solite premonizioni si, il carmo sulla mia testa ha sede del suo sangue vorrei cercare qualcosa qua, vediamo un po' non ho le azioni più di niente qua ovviamente è tutto chiuso sopra credo che ci sia sopra credo che ci sia non è tutto chiuso non è tutto chiuso ma non è tutto chiuso è tutto chiuso Infatti non si vede niente, devo farmi piccolo, piccolo, basso, basso e passare oltre. Non si vede niente con questi pixel enormi. Mare di fiori. Ecco, che ci chiamano? Siamo amati? Fai attenzione, non devi assolutamente usare armi in questa zona. Ho già programmato i nanoidi, non sarebbe nemmeno in grado di farlo. Cosa? Di che cosa state parlando? No. Ti sei dimenticato che sei nel deposito delle testate nucleari? Non le hai ancora viste? Già, ci sono un sacco di casse qui, ma vuole dire che sono tutte testate nucleari? Sì, sono tutte testate smantellate. E le lasciano qui così? Proprio come diceva il presidente Baker, nell'incuria più completa. Il loro budget è molto limitato. Si sforzano di mantenere una facciata di efficienza per i media, ma all'interno le cose sono diverse. Nastasha ne sa molto più di me. Puoi chiamare Nastasha sulla frequenza 141.52. I meccanismi di detonazione sono stati rimossi da tutte le testate contenute nelle casse, per cui non ci sono pericoli di esplosione. In caso di rottura di una testata, però, ci potrebbero essere perdite di plutonio, e sarebbe un bel problema. Snake, non usare la tua arma da fuoco nel piano dove ti trovi. Allora, prima di chiudere il capitolo, 141.52. Mi è venuto in mente un lampo, vediamo. 100 141.52 No, poi mi dimentico. E buonanotte, faccio ancora più danni. Ok. Snake, devi salvare il dottore Emmerich, l'ingegnere capo del metadito. 141.52 Sono Nastasha Romanenko. È un piacere lavorare con te, Solid Snake. Sei l'esperta nucleare di cui mi ha parlato il colonnello. Sono io. Puoi chiedermi tutto quello che vuoi sull'argomento. Sono anche analista militare, perciò ho una vasta conoscenza di armamenti. Mi hanno chiesto di partecipare a questa operazione come supervisore della squadra di ricerca nucleare ed emergenza. Ho accettato con piacere. Dobbiamo impedire ai terroristi di mettere le mani su qualunque genere di arma nucleare. Spero di poterti aiutare a fermarli. Sei un tipo in gamba. Questi terroristi hanno davvero intenzione di lanciare una testata nucleare. Il mondo non può stare a guardare che ciò accada. E nemmeno io. Purtroppo da qui posso soltanto fornirti delle informazioni. Spero che basti. In ogni caso un altro soldato qui non cambierebbe molto le cose. Sono felice di lavorare con te, Nastasha. Il piacere è mio, Snake. Ecco adesso c'è perché sennò diventava un bel problema. 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 quando va l'aprobanda da di qua fantastico ragazzi c'è veramente bisogna andare credo primo piano piano momenti mi beccano non so se è B1 o B2 non mi ricordo